benvenuti su un nuovo programma di full timer pesca adesso andremo a pescare mi faccio così perché andremo a pescare andremo a pescare col mio amico zanluca in una riserva se non becchiamo la multa adesso non la becchiamo più stile di pesca ten cara andiamo in mezzo al bosco e prendiamo un po di frutta nella foresta chissà se troviamo un puffo da luca sono a cassa d'osso che poi sicuramente li vede o qua se non becchiamo i pesci qui a dorito se non becchiamo i pesci qua si parla di pesci giganti è stata avvistata una balena grande un po un po sporche ma qua si è seccato quando c'è stata la secca le buche sono rimaste fermati che qua va già bene sai tanto qua io non è che c'è una strada no e adesso vediamo che cosa sta a me sta a me di qui di qua devo trovare il sistema non è capito 60 tono sì però sono piccoli si porca vacca menato via spagli per la cuore è calato tutto no piuttosto camminato non c'è un cazzo di là non ci sono bucchi così non è bella cosa tutta nera è bellissima ooo tem cara tem cara questa qua era già di scrittura finalmente finalmente un ten cara in fiume ten cara non bellute per provare tanto lo so che prenderai tutto ok 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 Buongiorno. 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 No. Ma ti sta riprendendo un po'. C'è il vento che rompe il calcazzo. Maestro. 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 Tenkara non delude. Hai visto com'è uscito? Tenkara non delude. Tenkara in un posto meraviglioso. Mi raccomando ragazzi. Un posto di campanellino. Non lo stiamo a perdere. Campanellino. Se gli altri mi piace. Alla prossima. Adesso devo sistemare l'ingroviglio che va combinato questo cristiano qua. non lo stiamo a perdere. Alla prossima. No.